musica 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 bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video noi siamo professional gamers e siamo sempre qui su lager.io siamo di nuovo tornati su lager.io no non mi di che lager per fare ah questi bug ok se puoi giocare se puoi giocare lag questo video sarei chiamato magari io con il lag bene piano piano abbiamo accumulato un po di palline no no non conviene l'albania bene guarda cazzo ci sta un bordello in questo bordello bordello ah comunque questo qualche video di agar.io e premono spesso cioè la massa farlo rallentare specialmente quando sei molto molto grande e su agar.io c'è agar.io caspita eh un po' di po' altro ci stava il bordo lì bene i rossi stanno stravincendo su tutti e tu sei verde mi sono verde l'albania ancora qua l'albania? eh adesso dappertutto sono è spaventosissimo questo lag è possibile che durare così poco? cioè siamo stati fermi mezz'ora? dopo lì ci metto 6 hours later oh guarda che culo come ci guardiamo me la godo me la godo via 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 fuggi 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 attendo il tasto il tasto spazzatrice pronto tienilo tienilo cazzo tienilo i verdi Nando stanno prendendo stanno prendendo molto piedi i verdi scappa 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 ti sta dando la massa no? scappa si scappa 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 ho fatto il vetro vai 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 dai colpisci quella lì colpisci quella piccola colpisci quella piccola no aspetta 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 non mi posso suggerire? no sai? no no non ti può suggerire quello ti vuoi la massa da dentro no tu ti vuoi però dai la massa qua a me? si non glielo la massa dai va tra l'attere la massa ok dai la massa no non glielo la massa aspetta 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 come si fa? come si fa? dimmi come si fa? con M con Q no con M sicuro con M? non lo so aspetta vedi c qua con W con W con W? con W? no con M con M con M? eh? oh 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 rossi sono no i veri sta poter prendere la posizione sui rossi e il blu sta prendendo la posizione su tutti e due stanno cercando i veri stanno cercando di prendere posizione sui blu guarda quando cazzo stiamo aumentando per un attimo e i rossi sono scivolati in ultima posizione ma i blu adesso sono in vantaggio dai devi piallo cazzo no 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 lo so io quando quando è un buon affare oh cazzo fidati grazie guardalo grazie dai quello li dovevi prendere no almeno li dovevi prova vai quello li quello li cazzo sta lì sta io scappare quello blu e vabbè ti ha attirato proprio come un tondo proprio sta attirato se non laggava si si se non laggava non è possibile toccarli come questi non è colpa mia è colpa della connessione comunque il micio ha fatto schifo io ho fatto schifo tu hai fatto meglio non è vero io ho fatto schifo lasciate un like e un commento e iscrivetevi al nostro canale youtube spero che il video vi sia piaciuto seguiteci iscrivetevi fate quello che cazzo vi pare per questo video è tutto ciao